E' bella l'immagine mutuata anche dai sentimenti, no? Cioè la lettura psicologica spesso si fa nei sentimenti questo, cioè io immagino che quell'altro in realtà voglia stare con me e confondo il mio desiderio con la realtà. Io per anni l'ho pensato di Kate Moss, cioè la guardavo e mi confondo... E si è andato avanti così per quanto tempo? Io mi convincevo che Kate Moss... Finirà meglio, finirà meglio, questo ve lo garantisco. Questa convinzione è durata attimi o anni? Io la guardavo ed ero convinto che... Mi convincevo. Posso dire una cosa? Hai mai tentato di conoscerla? Scusatemi, però mi sembra molto interessante. Hai mai provato a conoscerla? No, permettimi un po' di privacy e di riserva te. Vabbè, ok. Alessio, arriva, arriva.